sapete che il primo killer della storia della letteratura gialla non è un uomo e sapevate che alexander dumas ed hebdar all'ampo hanno condiviso una storia misteriosa legata al primo romanzo della letteratura gialla breve storia della letteratura gialla un saggio di eleonora carta per grazie in tutti in tutte le librerie dal prossimo 26 gennaio grazie